Allora, siamo con la nostra Miriam, versione boscaiolo, con la camicia comprata al Primark di Madrid, al reparto donna. Premaman, cos'è il Primark? Ah sì, sì, forse era Premaman. Taglie posti, taglie posto. Versione Premaman. Ma cosa ti ha lasciato Madrid? Qualcosa di buono? Beh, meglio non dirlo, dai. Mi ha lasciato un innamoramento con un paio di tizi che poi ci sono... Ma sei incinta? Sei incinta? No, non sono incinta. Ah no, no, no. Spero proprio di no, guarda, ma mai, ma nella vita. Non so, Premaman, niente, niente, non lo sappiamo. Però vedi, nel corso, puoi abbassare un po', perché se no ti resti, siccome taglia, resti... Un po' indietro nel caso. Eh, magari... Sì, ma c'è il computer o c'è? Cosa c'hai? No, no, il telefono l'ho montato in un modo che se lo sposto di mezzo millimetro cade, però... Ah, perché... Quindi proprio da sciampista. Non so, lo abbasso un po', ancora un po', aspetta un attimo. Così? Eh, sì, forse un po' più indietro, vediamo un po' se va bene. Sì. Eh sì, dai, più o meno. E quindi, insomma, ti ha lasciato un bel ricordo, praticamente... Eh, sì, ci sono cose belle, cose brutte, il clima non mi è piaciuto e poi, vabbè, io speravo di innamorarmi a matito, ma invece ho trovato, purtroppo, solo uomini... Gattramisti e sciampiste, insomma. No, gay, gay. Ah, gay? Ah, bene, bene. Per quello che sei stato a Boscaiolo, poi così facevi la macchia. Eh, infatti, mi hai sgamato, guarda, io speravo che passassi l'osservato, ma invece... Bene, bene, dai, ti ho fatto...